Mi piace molto il forno, quindi questo è un buon compromesso, ci mette d'accordo con tutti e due. Forse per me le sede di Inverta mangiare sempre una zuffa o una miestra, ma anche due pezzetti di patate, bollite o una carota o una faggia Giulietta. A casa di Zia Giulietta in realtà pure le sede di Stati si mangiano la miestra. E siccome è una ammenzia, ormai già hanno 95 anni, ha... Le patate si è cotte, quindi la zuppa è pronta, adesso la prendiamo. Una bella pastatina con frullatura di innessione. Se la volete proprio a crema, insistete. Se invece vi piacciono i pezzetti, fate proprio giusto una tirata. Mi piace molto il forno, quindi questo è un buon compromesso, ci mette d'accordo con tutti e due. Forse per me le sede di Inverta mangiare sempre una zuffa o una miestra, ma anche due pezzetti di patate, bollite o una carota o una faggia Giulietta. A casa di Zia Giulietta in realtà pure le sede di Stati si mangiano la miestra. E siccome è una ammenzia, ormai già hanno 95 anni, ha... Le patate si è cotte, quindi la zuppa è pronta, adesso la prendiamo. Una bella pastatina con frullatura di innessione. Se la volete proprio a crema, insistete. Se invece vi piacciono i pezzetti, fate proprio giusto una tirata. Grazie. 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 Grazie.